Buonasera, sono Ennio Lanzotti, direttore d'Italia dei marchi Ergon e Provenza del gruppo Amiceramica. Questa edizione 2011 del Cersaie è stata estremamente positiva per il gruppo. Abbiamo presentato prodotti in linea con le tendenze del mercato, anzi abbiamo suggerito nuovi modi di esposizione, nuovi modi di utilizzo. In particolare Provenza e Ergon, marche che seguo direttamente con validissimi collaboratori, hanno espresso delle idee molto interessanti dal punto di vista del design e dell'utilizzo dei materiali. Un plauso al nostro reparto marketing che ha saputo fornirsi delle idee a supporto, degli strumenti di vendita eccezionali e i clienti hanno confermato con degli ordini questo che sto appena dicendo. E' un grande applauso al reparto, al laboratorio di cerchi e prodotti che ha saputo innovare, nel vero senso della parola, tutto ciò che abbiamo presentato in questa magnifica edizione del Cersaie 2011.